Due motivi per cui fare investimento immobiliare è peggio che investire in etf passivi nel lungo periodo Ne parliamo nel video di oggi, ben ritrovati sul canale, io sono Mickey Business In questo canale parliamo di crescita personale, finanza personale, trading, investimenti, crypto, etf, eccetera, eccetera Tutto quello che riguarda il mondo del cash Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale se ti piacciono i soldi, se vuoi diventare sempre più ricco e finanziariamente libero Bene, fatta questa premessa allora due motivi per cui l'immobiliare è peggio di un investimento in etf Caso proprio pratico, pratico, esempi reali che mi sono arrivate voci proprio negli ultimi giorni Allora, prima di tutto se non l'hai ancora visti ti invito a guardare i miei due video sull'immobiliare che ho già fatto Immobiliare contro etf, ho già fatto un paio di video dove andavo a sviscerare proprio i pro e i contro di investire nell'immobiliare E i pro e i contro di investire in indici in etf Ok, quindi se ancora non l'hai fatto vatti a vedere nei video, trovi la playlist finanza personale, sono tutti lì dentro Ora invece parliamo proprio di due motivi per cui l'investimento immobiliare crea problemi Ok, problema di manutenzione, ok Nel video dell'immobiliare contro etf avevo già parlato a livello teorico Adesso vi porto un caso pratico di una persona che conosco Che ha una casa, molto grande in campagna, con un pezzo di campo Un pezzo di campo E cosa è successo? È successo praticamente che a questa persona è esploso il tubo dell'acqua sottoterra nel campo Dopo il contatore Quindi cosa vuol dire? Che se succede a livello di contratto, quando in Italia funziona così Se c'è una perdita d'acqua nel tuo terreno, prima del contatore Ci pensa il fornitore Mentre dopo il contatore il danno ci devi pensare tu E inoltre in più intanto c'è la perdita dell'acqua Che va a fare del consumo Ok A parte poi il danno alla proprietà in sé Che dopo c'è l'acqua dappertutto eccetera 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 Quindi cosa è successo? Questa persona si è ritrovata con una perdita Dopo il contatore Ok Dopo il contatore E praticamente Sono stati Non so quanti metri cubi d'acqua Centinaia, sono migliaia di metri cubi d'acqua Sono stati Praticamente buttati uno E poi dopo La perdita è affiorata in superficie Perché da sotto praticamente è arrivata sopra Si è creato tutto un mezzo lago Insomma Ci si è accorti del problema E quindi dopo chiami Chi di dover per aggiustare Idraulici E gente con scavatori eccetera Che deviano aprire Fare il buco E mettere a posto Il terreno eccetera 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 Quindi Spesa Sospesa Sospesa Ok Perché chi dice Eh no ma l'investimento immobiliare È un investimento Comunque È buono Si è un investimento buono Ma dovete capire che ci sono Un sacco Di Contro Come stavo Come stavo dicendo Sostanzialmente È un problema questo È un enorme problema Il problema è che non hai con l'investimento Di lungo periodo In etf Perché tu metti Cioè l'unico problema che hai Dell'etf È che se il mercato è giù Potresti essere in perdita Oppure potresti aver perso Un po' di profitto Ma se tu non vendi Comunque non sei Non sei Non hai perso niente Finché non vendi Ok Mentre qui Ci sono Quindi l'unico problema Diciamo Dell'etf È che Ti può dar fastidio A livello emotivo Ma Se succede un problema pratico Proprio Hai un immobile Ok Hai un immobile Detiene un immobile Questo è Questo è anche proprio Questa persona È In questo caso specifico L'immobile non è a reddito Ma è proprio un immobile Suo Ok Dove ci vive dentro E Quindi possiamo parlare Di mutuo versus affitto In questo caso Però Possiamo traslare l'esempio In un immobile Che ne so Hai una villa In campagna Che tu vuoi mettere in affitto Per Che ne so Fare matrimoni Per Gente che viene lì Per turismo Eccetera Ecco che E si trasla benissimo Si rompe lo stesso Il tubo dell'acqua Il problema È il medesimo Ok Che poi la casa Sia Tu a dove ci vivi O sia Un investimento immobiliare Dove ci trai del profitto È un altro paio di maniche Comunque Quindi questo Motivo numero uno Perché Per cui Un investimento In indici È meglio In borse È meglio Che un investimento Immobiliare Ah tra l'altro Ragazzi Questi non sono consigli finanziari Se parlo di Determinate Indici Eccetera Io non Non vi consiglio Di mettere Non sono proprio Consigli finanziari Non Fate le vostre ricerche Non vi consiglio Di investire In un specifico indice Eccetera 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 Ora E quindi ragazzi Questo qui è il primo Il primo motivo Il primo motivo Per cui Non Cioè non potete Investire E non dovreste Investire In immobili Ok E poi Andatevi a vedere Anche tutti Qua in questo video Parlo di due contro Ok Ho fatto anche un video Dove ho parlato dei pro Ok Quindi adesso Non è che dico Sono contro l'immobiliare A livello assoluto E questo qui è un video Di due esempi Che mi sono capitati Proprio negli ultimi giorni Ok In cui vado proprio A sviscerare Perché In questo caso Sarebbe stato meglio Se invece che avere una casa Avresti Il valore della casa Investito in borsa Ok E E E E un esempio Così E quindi Primo motivo Manutenzione Manutenzione pratica Quindi adesso Il Aggiustare il terreno Aggiustare il tubo La perdita Più c'è Il costo della manutenzione Più Il costo Di tutta la perdita Dell'acqua Che sì C'è una Ci sono delle agevolazioni Una perdita Una parte della perdita Poi viene ricompensata Eccetera 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 Ma Parliamo di magari Migliaia di Metri cubi d'acqua Ok Invece Se tu Sei Se tu non hai Un immobile A reddito Cioè Investimenti Oppure se tu sei in affitto Il problema è il proprietario Non è un tuo problema Ok Quindi qui si parla anche di affitto Verso smutuo Non solo di Investimento Immobiliare Verso investimento di borsa Secondo motivo Altra persona Altro scenario Questa persona Ha Un immobile In una Isola Ok Famosa E ci fa Airbnb Ok Quindi affitta C'è la casa Ok Quindi proprio Va a fare Affitto a breve termine Ai turisti In questa località Esotica E quindi C'è la casa lì Ero con questa persona Giusto ieri E a un certo punto Arriva una mail Di uno dei guest O di uno degli ospiti Dicendo Non va l'acqua Né nel bagno Né nel lavandino Né nella doccia Fine dell'acqua In questo In questo periodo In questo posto Praticamente ci sono dei problemi Con l'acqua Ok Perché sapete che Comunque ragazzi Le piogge In certi posti Non piove In certi posti Piove troppo Arrivano delle piogge Bomba Ci sono dei problemi Con l'acqua Le reti idriche In ogni paese Ogni paese È a sé stante Non è detto che Ci sia l'acqua Dove Dove vivete voi O dove vive Un'altra persona In un altro paese In un altro stato estero Ecco che Problema dell'ospite Quindi cosa devi fare Tu devi prendere su E Contattare l'ospite Rassicurarlo Che Adesso risolviamo Il problema dell'acqua Tu sei in Italia L'immobile È da un'altra parte Devi capire Con delle persone Come si fa Qual è il problema C'è già stato il problema Ok Allora fai XYZ E Risolvi il problema Che non c'è l'acqua E Il contatore E vai a controllare Le bollette Sono state pagate Magari c'è un problema Che Non è partita Una bolletta E quindi hanno chiuso l'acqua Non lo so Sto rispotizzando Adesso Oppure Lì si sa Che c'è un problema Di acqua Di rete idrica Quindi devi rassicurare Il guest E dirgli Ascolta Guarda In questo momento Lì Ci sono dei problemi Proprio alla rete idrica Del paese Quindi è probabile Che rimani senza acqua Puoi fare XYZ Ok Ci sono diverse soluzioni Questo cosa comporta Potrebbe comportare Un danno A livello del tuo business Perché magari Questo guest Poi rimane Male Del Della vacanza Ti lascia Una recensione negativa Ok Potrebbe succedere Quindi tu devi Istantaneamente Andare A risolvere il problema Ok Cosa che con un investimento Non c'è Ok Un investimento In borsa Perché il problema Quale può essere Può essere Che il mercato è giù Se il mercato è giù E non vendi L'unica cosa È che devi controllare La tua emozione Ok Ma se sei un investitore Di lungo periodo Sai benissimo Come funziona Ok Quindi questo è quanto Ragazzi Due motivi Due motivi Che sono proprio pratici Due esempi pratici Che vi ho portato Oggi Sul canale Non parliamo solo di teorie Ma proprio di cose Perché comunque Io conosco persone Che hanno diversi immobili Conosco persone Che investono in borsa Io investo in borsa Ci sono tutta una serie Di scenari Che io A cui io sono al corrente E quindi tramite Questi scenari Che mi vengono poi Messi davanti Nella mia vita Posso portarvi Delle esperienze Nonostante io Per esempio Non detengo immobili Non detengo immobili Però ho delle persone Molto vicine Che detengono Diversi Sia come casa Privata Sia come Investimento Proprio immobiliare Sia affitti A lungo termine Che a breve termine Quindi quando succedono Delle cose Io vi posso portare Guardate ragazzi Investimento immobiliare Ci sono dei casi reali Che succede XYZ Io ve li riporto L'investimento in borsa Succede XYZ Poi valutate voi Cosa è meglio Per voi fare Ok Se poi volete Farvi l'immobile Fatevi l'immobile Se poi volete Farvi l'ETF Vi fate l'ETF Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Noi come sempre Ci vediamo A un prossimo video E grazie Come sempre Per vedere i miei video Per vedere i miei video